Musica Amici sportivi ben ritrovati con l'ultimo appuntamento stagionale con il pianeta di MSP questa è una puntata interamente dedicata ai campionati nazionali che per il nono anno consecutivo si sono svolti sulla riviera romagnola Rimini per l'esattezza al Garden Sporting che è stato il teatro di tutti gli incontri di ben 16 squadre che sono arrivate un po' da tutta Italia ovviamente c'era anche una buona rappresentanza che arrivava anche dal Veronese di cui poi vi daremo notizia La formula del torneo ha previsto le 15 squadre divise in 4 gironi tutti da 4 tranne l'ultimo da 3 da questo verrà poi composta la griglia dei finalisti Dicevamo tra le compagini veronesi impegnate in questo torneo abbiamo i campioni regionali arditi i vice campioni regionali e provinciali del Corvinul Unedoara e il Sandrà che invece ha portato a casa un bronzo ai regionali ed è anche il vincitore del Valpolicella Cup Questo è solamente l'inizio del nostro reportage che sarà curato da Francesca Ercoli ovviamente affiancata da Fernando Gasperi Allora una carrellata di sponsor poi andiamo a vedere subito tutte le fasi di qualificazione fino alla finale Girone 1 Nel primo girone era impegnato il nostro Sandrà che dopo nove anni ha riassaporato il profumo dei campionati nazionali Tanto tempo è passato da quella volta a Cecina ma il presidente dell'Ellis ha saputo riportare la propria squadra ai vertici nazionali La prima partita, vuoi per l'emozione, vuoi anche per il valore degli avversari, non è andata molto bene perché i romani de Al Capriccio si sono imposti per 6 a 3 È sembrato immarcabile Santarelli del Capriccio, autore di quattro reti che hanno spezzato le gambe agli avversari Dalla parte del Sandrà comunque doppietta di Birlea Nel secondo incontro i pistoiesi incredibili hanno vinto per 2 a 0 la gara contro i perugini del Chievo Veronica La partita è stata decisa da Giovannelli, andato in rete in entrambi i casi Il secondo turno si è aperto con la sfida tra le due vincitrici della prima gara, ovvero gli incredibili e Al Capriccio che in caso di vittoria avrebbero strappato il pass per la seconda fase Dopo una partita intensa a portarsi a casa la qualificazione è stato il Capriccio che ha vinto con il punteggio di 4 a 1 con ancora una doppietta di Santarelli Nella seconda partita si sono incontrate invece le sconfitte del primo turno, il Chievo Veronica e il Sandrà Le due compagini hanno dato vita a una gara in cui non ha prevalso nessuna delle due Al Sandrà non è bastato un Birlea ancora una volta imprendibile è autore di tutte le reti dei suoi per evitare un pareggio per 4 a 4 un punticino che però rimanda il discorso qualificazione all'ultima giornata I primi del Capriccio hanno portato a 3 le proprie vittorie imponendosi per 5 a 3 contro il Chievo Veronica con due sconfitte e un pareggio termina qui il percorso dei perugini del Chievo Veronica alla loro prima esperienza in un campionato nazionale una doppietta testa per Giannini e Zorzan Anche nel secondo e ultimo incontro del girone i pronostici sono stati rispettati perché gli incredibili hanno battuto 3 a 1 il Sandrà facendolo anche arrivare ultimo per una peggiore differenza reti le reti della qualificazione portano la firma di Galeone, Bugiani e Giovannelli Girone 2 il secondo girone è quello del secondo veronese ovvero il Corvinu Unedoara in quello che sicuramente è l'anno più sfortunato della sua storia recente perché ha finora all'attivo due secondi posti ai campionati provinciali e nazionali le cose non si sono nemmeno messe subito bene per la squadra di Giorgescu battuta 6 a 3 all'esordio dai perugini dell'OCB il miglior marcatore della gara è stato Proietti autore di una tripletta seguito da Ballint con una doppietta nel secondo incontro si sono invece trovate la zona pontina proveniente da Latina e il Celtic Pistoia che è pronto a bissare quanto di buono hanno fatto i compaesani incredibili nel primo girone il punteggio finale di 1 a 0 a favore del Celtic rende bene l'idea sull'equilibrio che c'è stato tra le due compagini per tutto il tempo l'equilibrio è stato spezzato solo dalla rete decisiva di Melani nel secondo incontro l'OCB continua la propria striscia di vittorie consecutive andando a vincere per 2 a 0 contro il Celtic Pistoia quasi a vendicare quello che sportivamente è accaduto nel primo girone con la squadra di Pistoia che aveva estromesso quella di Perugia molta più attesa c'era per le due sconfitte del primo turno già obbligate a un dentro fuori per continuare a giocarsi il trofeo la possibilità in questo caso è stata presa dal Corvinu un Edoara che ha vinto in tranquillità il confronto per 6 a 2 doppiette vincenti per Nisi Paso e Molonfeneanu che riaccendono la speranza alla squadra di Giorgescu che finalmente riesce a vedere la luce alla fine del tunnel per il 0 Pontina invece questa sconfitta coincide con l'eliminazione dal torneo con questo successo il Corvinu ha raggiunto in classifica il Celtic Pistoia avversario proprio dell'ultimo turno intanto l'OCB ha sbrigato anche la pratica zona Pontina che subisce il secondo 6 a 2 consecutivo 9 punti in tre partite non possono che porre l'OCB come una delle prime favorite per la vittoria finale anche perché i suoi successi sono sempre arrivati in maniera relativamente tranquilla doppiette sempre per Poglietti e Cavadenti nell'ultimo incontro Corvinu e Celtic si sono giocati la vittoria e quindi il passaggio del turno a festeggiare è stato il Corvinu un Edoara che ha messo in piedi la gara quasi perfetta andando a vincere in scioltezza per 4 a 0 in questa gara il valore aggiunto è stato Danes andato a segno due volte nel terzo girone della prima fase le prime squadre che incontriamo sono i Perugini dell'Arges e la Cipicchia che invece proviene da Latina entrambe le compagini non sono due facce nuove a questi campionati le due contendenti si sono equamente divise la posta in palio poiché hanno pareggiato per 1 a 1 con reti di Favale e Catalan nel secondo incontro la polisportiva Villa Massargia ha vinto per 4 a 1 il confronto con i Real Colizzati grande prova per la squadra proveniente da Carboni e Iglesias che con questi tre punti proverà a passare il turno nella seconda giornata è arrivata la seconda sconfitta per i fiorentini Real Colizzati che hanno ceduto 2 a 0 alla Cipicchia con reti di Peloso e Vitelli è stato un successo quasi obbligato per i ragazzi di Latina dopo il pareggio della prima giornata nel secondo incontro l'Arges ha ottenuto il secondo punto del proprio torneo con un 2 a 2 contro la polisportiva Villa Massargia questo risultato di 2 a 2 accorcia ancora di più la classifica lasciando i soli Real Colizzati fuori dai giochi come spesso accade la squadra che ormai è fuori dai giochi nell'ultima giornata vuole commettere uno sgambetto all'avversaria di turno e questo è il caso del Real che ha vinto per 5 a 2 contro l'Arges a cui era comunque necessaria una vittoria per superare il Villa Massargia si sono distinti in particolar modo Di Nardo e Pernesa con una doppietta ciascuno che hanno certamente aiutato nel vincere la gara con questo risultato le due squadre che erano sicure di passare il turno erano la Cipicchia e la Polisportiva che si sono pure scontrate in questo turno la vittoria è andata ai primi che si sono imposti per 3 a 1 con doppietta di balestrieri chiudendo quindi il girone da imbattuti. Girone 4 questo era il girone Monco con solo tre squadre e qui che troviamo i veronesi Arditi che nel primo turno hanno dato una grandissima prova di forza contro il Rimini Fuzzal piegato per 5 a 0 dopo un'ottima prestazione corale da parte di tutti i giocatori. Piccola giustificazione da dare a Rimini è il fatto che non avesse praticamente panchina per far rifiatare i propri uomini Nel secondo turno a riposare sono invece gli Arditi che hanno potuto vedere l'esordio dei perugini del Cazzim. Con sole tre partite quello del Rimini era già uno scontro spartiacque della stagione che garantirebbe il passaggio del turno. A festeggiare però è stato il Cazzim che si è imposto per 3 a 2 con doppietta di Canalicchio. Con due sconfitte il cammino del Rimini Fuzzal finisce qui. Nel terzo incontro si sono incontrate le due vincitrici delle altre gare ovvero Cazzim e Arditi per sancire quale fosse la squadra a dover passare il turno come prima qualificata. A festeggiare alla prima saranno anzi alla fine saranno gli Arditi che hanno triturato gli avversari per 4 a 0 con tripletta di giardino riuscendo così a terminare il girone senza aver subito nemmeno una rete. Allora Alessandro avete combattuto fino alla fine anche questa sera e siete arrivati comunque nella fase finale ma cosa è andato storto? No ovviamente dal campionato provinciale dal campionato regionale l'asticella e il livello si è alzato di gran lunga. Noi eravamo la prima esperienza e abbiamo pagato forse un po' quello, un po' l'emozione, un po' gli episodi ci sono andati praticamente tutti storti dall'inizio, vabbè dai abbiamo accumulato esperienza e si riproveremo l'anno prossimo. Allora Manuel avete combattuto per tutta la partita ma non è stato abbastanza, che cosa è successo? Eh ci è mancato quel pizzico di cattiveri diciamo che ci poteva permettere di vincere la partita, solo un po' la stanchezza della partita della mattina, un po' anche la stanchezza di ieri, partiti, il viaggio, un po' tutto quanto ecco, un po' vari fattori ci hanno portato alla sconfitta. Siete arrivati in finale ma non è andata come speravate, cos'è successo stasera? Eh diciamo che la parte di Rimini quella buona della sera ha prevalso su quella sportiva, quindi insomma siamo arrivati un pochino stanchi e senza e senza motivazioni, ci rifaremo stasera. Allora Simone avete combattuto per tutta la partita ma non è stato abbastanza, cosa vi è mancato per vincere stasera? Eh diciamo che siamo arrivati contati perché c'è stato dei ragazzi che non sono potuti venire per infortuni e quindi diciamo siamo stati un po' sfortunati anche per quello e in più sicuramente il viaggio e il caldo non sono stati di aiuto ma magari proviamo a fare meglio. Allora Radu, vi siete messi a confronto con squadre molto forti ma l'avventura è finita, che cosa è andato storto nel match stasera? È andato storto che non ci sono presentati tutti quelli che dovevano venire a giocare, erano almeno sei giocatori in più che erano quelli più bravi attaccanti che noi non ce l'abbiamo avuti, ci abbiamo giocato soltanto con i difensori e abbiamo perso. Un commento a caldo post partita? No, dispiace comunque si era venuti per superare sicuramente il girone, comunque volevamo vincere ovviamente, purtroppo le prime due partite sono state quelle decisive, ci hanno eliminato, non ci hanno trovato subito pronti e oggi abbiamo messo nel pomeriggio in campo la rabbia che viene fuori dalla delusione delle prime due partite, oggi si è visto cosa sono i realcolizzati, cosa possono fare e sicuramente torneremo il prossimo anno per vincere questa competizione sicuramente. Quarti di finale. Il primo quarto di finale è stato quello tra i romani de Al Capriccio e i perugini del Cazzim, in questa occasione il confronto è terminato sul punteggio di 6 a 0 a tavolino a favore di quelli del Capriccio che volano quindi in semifinale. Nel secondo incontro hanno davvero giocato la Cipicchia e il Corvinul Unedoara, nonostante i favori del pronostico pendessero maggiormente da parte della Cipicchia, se non altro perché ha vinto il proprio girone, il Corvinul ha fatto la voce grossa e si è imposto per 9 a 3. I tifosi hanno potuto ammirare uno Stepane che in forma smagliante è in grado da solo di realizzare una tripletta che ha spianato la strada ai propri compagni verso la prossima gara. Il risultato più largo però è stata la vittoria per 7 a 1 dell'OCB ai danni della polisportiva Villa Massargia. Troppo è sembrato il divario tra le due compagini, soprattutto guardando la panchina perché la polisportiva non aveva nemmeno un cambio utile mentre l'altra compagine poteva contare su ben 7 uomini. I giocatori più prolifici sono stati delle donne e peroni rispettivamente con 3 e 2 reti a testa. Nell'ultimo quarto di finale invece, numeri alla mano, è uscita la squadra che più aveva impressionato nella prima parte di campionato, ovvero gli arditi unici a passare il turno senza subire reti. La buona difesa è stata una costante negli ultimi tornei disputati dalla squadra di Provenzano. Non aveva però mai trovato una squadra con una difesa altrettanto valida come quella degli incredibili, che sono riusciti a imporsi per 3 a 1 con doppietta di giovannelli. Sono qui con Davide Piras della squadra polisportiva Villa Massargia. Allora Davide, quale fattore vi ha portato alla sconfitta oggi? Mancanza di tecnica o semplicemente un po' di sfortuna? Guarda, ti direi molta stanchezza anche perché siamo partiti in 11, siamo arrivati l'ultimo giorno che eravamo in 5 e quindi diciamo che il fatto di non avere nemmeno cambi a disposizione ha influito tantissimo. Pensi che la squadra avversaria aveva qualcosa in più di voi? Sicuramente erano organizzati meglio, questo sì, giocavano un buon calcio e tecnicamente erano tutti forti. Sono qui con Claudio Saccucci della squadra Accipicchia. Allora Claudio, siete stati eliminati, un commento post-match? Abbiamo affrontato penso una delle squadre favorite alla vittoria finale, già le abbiamo incontrati due anni fa se non sbaglio, squadra attrezzata, fortissima, niente da dire, hanno meritato ampiamente la vittoria. È stata una grande sconfitta, ma cosa vi è mancato per vincere a voi? Sicuramente un po' di lucidità, come sempre, qualche giocatore che manca di esperienza su finali e partite del genere. Semifinali. Le incredibili quattro squadre sopravvissute a gironi, quarti di finale e maltempo si sono date appuntamento domenica mattina sempre al Garden Sporting Center per giocarsi tutte le proprie carte. I primi a scendere in campo sono stati i veronesi del Corvino, Lunedoara e i Romani del Capriccio. Essendo arrivati alle ultime due partite del campionato, i giocatori hanno dato, anzi hanno avuto per un po' la paura di sbagliare, ma poi si sono sciolti e hanno dato vita a una gara molto bella e vinta dal Corvinul per 3-1. Una vittoria che vuole far dimostrare alla squadra composta da ragazzi rumeni che la sconfitta della prima partita è stata solo un incidente di percorso e che questo può essere finalmente l'anno giusto per conquistare il titolo nazionale dopo due secondi posti. Nell'altra gara gli incredibili hanno vinto per 4-3 il confronto con l'OCB che da tutti era ormai catalogata come favorita d'obbligo per la vittoria finale. La vittoria è però arrivata dopo i calci di rigore poiché i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 in virtù delle reti di Porzi e Galeone. Alla lotteria dei calci di rigore la fortuna ha premiato gli incredibili che volano quindi in finale nazionale. Sono in compagnia di Gianluca Ercolani della squadra Al Capriccio. Allora, percorso svolto con grande impegno ma l'obiettivo non è stato raggiunto. Cos'è successo in campo? Ma in campo è successo che loro erano una bella squadra, come sei bella anche te. E quindi alla fine la partita è stata abbastanza equilibrata, siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo avuto anche delle azioni per raddoppiare e poi invece loro hanno realizzato altri gol. Però complimenti alla squadra perché sono veramente molto bravi. C'è un po' di rammarico per non aver vinto? C'è rammarico perché comunque avevamo tutte le carte in tavola per cercare di vincere il torneo quindi siamo venuti su con quell'obiettivo, siamo un bel gruppo, i ragazzi sono fantastici e quindi è tutto l'anno che ci siamo impegnati per questo appuntamento e quindi volevamo cercare di vincere. Sono qui con Menghini Paolo della squadra OCB. Allora, partita infinita, supplementari e rigori. Ma cos'è successo durante il match? Niente, allora noi ci hanno preso in contropiede su una palla e non siamo riusciti a chiuderla bene e ci hanno sorpreso con un gol. Poi dopo durante la partita è stata un po' una sottomissione però non ci siamo riusciti e l'abbiamo ripresa alla fine e poi ai supplementari è stato il caldo, è dura e ai rigori abbiamo sbagliato l'ultimo. Meritavate qualcosa di più secondo te? Beh sicuramente sì, loro con un tira a porta sono arrivati ai rigori e l'hanno scampata. Noi con otto tira a porta dal primo e dal secondo tempo non siamo riusciti a chiuderla. Finali. Come al solito, prima della finalissima è stata disputata la finalina per il terzo e quarto posto tra le compagini OCB e Al Capriccio che si sono viste soffiare la possibilità di giocarsi il titolo nazionale proprio all'ultimo appuntamento. La partita piacevole e ovviamente con poca carica agonistica è stata vinta dall'OCB che ha terminato sul punteggio vincente di 5 a 3. Grande prestazione per Porzi e Peroni che hanno realizzato una doppietta a testa. Incredibili e Corvino Unedoara hanno avuto un cammino abbastanza simile in questi campionati poiché entrambi hanno perso una gara nella fase a Gironi. Più di una volta una sconfitta nella prima fase ha demoralizzato chi l'ha subita ma non possiamo certamente dire che questo sia il caso poiché le due squadre che hanno terminato il girone al secondo posto sono comunque arrivate fino all'appuntamento più importante della stagione. Dopo due tentativi andati a male finalmente il Corvino Unedoara si è laureato campione nazionale e sei anni dopo il successo della Trinacria Verona può freggiarsi di un altro campione. La gara è stata quasi una passerella per il Corvinul che si è imposto per 3 a 0 con le reti di Nisipasu, Stepanek e Ballint che è stato anche premiato come miglior giocatore del torneo. Mi trovo qui con Poli Gianluca della squadra Gli Incredibili. Allora Gianluca, quale fattore secondo te ha determinato la sconfitta? Un po' di sfortuna, mancanza di tecnica, di squadra? Allora ci tengo innanzitutto a ringraziare i miei compagni di squadra perché si è fatto un percorso formidabile e se mi guardo indietro difficilmente me lo sarei pronosticato. Per questo devo dire grazie ai miei compagni, per il cuore, per la testa, per tutto quello che ci hanno messo. Se guardo questa partita loro erano veramente bravi, hanno giocato bene, hanno sfruttato i nostri punti deboli e onestamente siamo arrivati un po' col fiato corto. vuoi le partite abbastanza frequenti a partire da questa mattina alle nove, vuoi il clima che era impronosticabile se guardiamo quello che era ieri e mi sento di dire che loro sono stati bravi. Peccato perché ce lo meritavamo anche noi. Sono qui con Giorgesco Rumeo della squadra Corvinul. Allora avete vinto questo torneo, che cos'è che vi ha fatto vincere? Mi ha fatto vincere questo torneo l'amore di questo calcetto, da vincere perché ne mancava questo torneo nella nostra bacheca, ce l'abbiamo tutto, abbiamo dato il nostro cuore per vincere sempre i nazionali. Volevo ringraziare tutti i miei giocatori, ringrazio le sue famiglie che mi supportano, mi supportano a me, da portarli via un anno da casa, tutte le sere per giocare, per vincere e per dargli questo piacere da vincere queste partite. Una finale dei campionati nazionali per me era il massimo che volevo averlo in questa squadra. E adesso che abbiamo il nome del vincitore campione italiano 2019 andiamo a seguire da vicino la cerimonia di premiazioni. Allora siamo giunti all'atto finale di questi campionati nazionali MSP di calcio 5, un ringraziamento a tutte le 15 squadre partecipanti, tributiamo un bel applauso. Finalmente dopo qualche anno di magra siamo riusciti a ritornare ai nostri livelli di un tempo, 15 squadre e avevamo raggiunto la sedicesima squadra in numero pari, però ci hanno costretto a una rinuncia, una rinuncia, questo qua lo dico a tutti che non si possono fare le rappresentative provinciali, le rappresentative regionali, ma questo qua è il campionato di quelli che hanno fatto attività presso tutti i comitati periferici MSP. Ringrazio tutti quanti a cominciare dal nostro presidente nazionale Gianfrancesco Lupatelli, il segretario nazionale Alessandra Calligaris, i nostri vicepresidenti nazionali Albergo Enrico e Danilo Montanari, i consiglieri Nuno Santos, Enrico Cimaschi e Gianni Liotta. Grazie per il supporto alla segreteria nazionale Daniele Rocchi e Vivenzio Alessandro, grazie a tutti quanti e direi di procedere con le premiazioni. Passo la parola alla nostra subrette, alla nostra presentatrice. Proseguiamo con la classifica. Settima classificata, premia presidente provinciale MSP Carbonia, Zara Luciano, polisportiva Villa Massaragia. quarta classificata, premia consigliere nazionale MSP Liotta Gianni, al capriccio. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Terza classificata, premia vicepresidente nazionale MSP Danilo Montanari, abbiamo gli incredibili. Seconda classificata, premia vicepresidente nazionale MSP Danilo Montanari, abbiamo gli incredibili. I migliori portieri dei campionati, premia consigliere nazionale Enrico Cimalschi, abbiamo Fattorini Lorenzo e Soca Chief Claudio. Miglior realizzatore dei campionati, premia presidente nazionale MSP Gianfrancesco Lupatello, Santarelli Mattia. Santarelli, 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 Santarelli. Coppa Fair Play, premia Nuno Santos, consigliere nazionale, abbiamo al capriccio. Miglior giocatore dei campionati nazionali, premia segretario nazionale MSP Alessandra Calligaris, abbiamo Ballint Marius, nel Corvinul. E con la medaglia d'oro, prima classificata, premia presidente nazionale Gianfrancesco Lupatelli, abbiamo Corvinul Unedoara. Foto? Foto insieme? Ragazzi, non ci stiamo? Andiamo qui indietro? Ma io mi sposto? Ma dove vado? Eh, silenzio, silenzio! Chi siamo noi? Cammini! Chi siamo noi? Cammini! Ci siamo noi! Cammini! 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 Ole, ole, ole! Ragazzi, è la prima! Cammini! Cammini! Ole, ole, ole! Cammini! Cammini! Siamo noi! Siamo noi! Cammini! Siamo noi! Cammini! 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 Obrigi! Cammini! Cammini! E queste sono le belle immagini cariche di emozione dei vincitori assoluti. In chiusura andiamo a sentire ai nostri microfoni il presidente regionale Veneto Antonino Portale, il presidente nazionale MSP Pierfrancesco Lupatelli, con lui anche il vice presidente nazionale Danilo Montanari. Uno dei momenti più significativi sicuramente è la consegna da parte del presidente Lupatelli al nostro Nino Portale di una targa di beneverenza per tutto l'impegno che porta avanti nell'ambito sportivo MSP da 30 anni a questa parte. Insomma anche queste sono immagini che state rivedendo insieme a noi che hanno rappresentato questa tre giorni di incontri culminata per l'appunto con la consegna della targa. Io direi che è tempo di lasciare spazio all'intervista, ne approfitto per salutarvi, ringraziarvi e invitarvi a continuare a seguirci sia su questi schermi ma anche dal sito di mspverona.it. Grazie a tutti e una buona estate. Sono in compagnia di Gianfrancesco Lupatelli, presidente nazionale MSP. Sentiamo da lui quali sono state le impressioni di questo torneo. È stata l'undicesima edizione di MSP Day e l'undicesima edizione è chiaramente la migliore perché noi ogni anno miglioriamo. Miglioriamo con tutti gli sport che facciamo qua a Rimini, dal pattinaggio a rotelle, al tiro con largo, a tutti gli sport, al calcio, calcetto, calcio ciclo, calcio sette, calcio a otto, calcio a undici, eccetera. Un grande affluenza di campioni, di atleti, di amatori, una grande presenza dei nostri dirigenti, dirigenti come Nino Portale che è una bandiera storica del nostro movimento. E pertanto siamo felici di essere qui a Rimini a festeggiare con tutto l'MSP Italia, in particolare qui l'MSP Veneto, le finali del calcio a cinque, a sette, a otto. Sono in compagnia di Danilo Montanari, vicepresidente nazionale dell'MSP. Allora, come è andato il torneo e soprattutto a livello di tecnica e di disciplina i ragazzi che hanno partecipato quest'anno? Beh, la domanda è giusta, visto che sono anche il giudice sportivo dell'MSP e calcio. Quest'anno è un anno buono, un plauso a tutti i partecipanti, un torneo molto regolare, molto tranquillo, poche espulsioni, poche munizioni. Devo dire che rispetto a qualche anno fa, MSP ha fatto un netto miglioramento anche sotto il profilo disciplinare e ne ha giovato anche, secondo me, la tecnica calcistica perché nella correttezza gli atleti hanno cercato di dare il meglio di loro stessi e mi pare di aver capito che ci sono riusciti molto bene. Poi da veronese sono ovviamente molto contento per la vittoria, finalmente, di una squadra veronese dopo molti anni di attesa e complimenti al Corvino, il calcio a 5.